Non riesce però vedete ad offendere ormai la Svizzera botata a chiudere solamente gli spazi in questi ultimi 19 minuti. Un Teanu, Agi, Mateut, va via Mateut, un barco, Mateut il destro, Trete, Trete, Romani è in vantaggio, Mateut, forse l'uomo che aveva deluso di più fino a questo momento. Milokas Mateut, vedete, centrocampista, definito, in effetti gioca davanti. Mateut, Uber ha provato a deviare ma non è riuscito ad arrivare sul pallone, ventiseiesimo.